Questo programma è offerto da Tecnocampus. Sabato 9 marzo, buongiorno da Teleprima. Benvenuti anche oggi a questa rassegna stampa, come sempre offerta da Tecnocampus. Vediamo quali sono i fatti in primo piano, partendo dal primo punto all'ordine del giorno, che è quella della lite fra Movimento 5 Stelle e Salvini, sempre sul medesimo obiettivo, ossia la TAV. Resta ancora un nodo cruciale che rappresenta comunque una netta distanza fra i due vicepremier, ma in questo caso anche nei confronti di Conte, che comunque sta cercando di valutare quelle che sono le alternative possibili, o soprattutto le vie per divenire o meno a una realizzazione della TAV, o meno. Insomma, si discute ancora tanto, ma vediamo le testate principali, le testate nazionali, che cosa ci raccontano questa mattina e in che termini ci parlano appunto di queste vicende. E vediamo che il Corriere della Sera apre proprio sulla lite Lega Movimento 5 Stelle. Si evoca già la crisi, infatti il leader del Movimento, Matteo, mette tutto a rischio. Alla replica, lavoriamo per unire. L'allarme di Buffagni 5 Stelle, Di Maio accusa Salvini, che però smorza i toni. Lega 5 Stelle, infatti, sempre più divisi. La lite sulla TAV, lontana Lega Movimento 5 Stelle, il vicepremier Luigi Di Maio, torna ad accusare il leader leghista. Non si può mettere a rischio il governo per un punto che è nel contratto di governo. Sarebbe un paradosso e dai responsabili, intanto, Matteo Salvini prova ad attenuare i toni dello scontro e replica nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato. Lavoriamo per unire e per dare lavoro, sviluppo e futuro all'Italia. Col buon senso si risolve tutto. Ma il pentastellato Stefano Buffagni vede avvicinarsi il divorzio, anche se, comunque, questa sua dichiarazione su un possibile divorzio tra Movimento 5 Stelle e Salvini è stata messa a tacere, in quanto, ovviamente, il governo non è ancora in discussione. Vediamo quali sono gli altri fatti. Nell'editoriale vediamo che viene rappresentato proprio così, come una bussola perduta, una sequenza incessante di botti sulle questioni più varie. Questa è l'immagine che da mesi caratterizza la politica italiana. L'attenzione del governo e dunque dei media rimbalza da un problema a un altro. La TAV, un vincolo dell'Unione Europea da rispettare, un'autorizzazione da votare, l'arrivo di migranti, un ponte da ricostruire e così via. Ogni problema diventa davvero un nodo su cui Lega e 5 Stelle sembrano essere divisi. Però quello che abbiamo visto finora è che, comunque, nonostante le differenze, nonostante le distanze, ad un certo punto si arriva ad un compromesso o comunque a un'unificazione. Vedremo se sarà così anche per la TAV oppure sarà questo il punto di svolta. E ancora nella parte centrale della pagina, ricordiamo che ieri è stata l'8 marzo, la celebrazione internazionale della donna, il racconto di un'ex prostituta, il monito del capo dello Stato. E questa è la storia di Stefania che commuove Mattarella. Infatti due testimonianze, parliamo di Stefania e Hop, straniere, che si sono riprese la vita dopo lo sfruttamento della prostituzione. Mattarella, le avvolute protagoniste delle celebrazioni dell'8 marzo, segnate da un richiamo a non tornare indietro sui diritti. Insomma, anche in questi giorni si è tanto parlato della riapertura delle case chiuse e si parla fortemente della prostituzione, che per molti ormai sembra divenuta una cosa talmente normale che quasi viene individuata nelle donne una scelta, cosa che non sempre è così, perché nella stragrande maggioranza dei casi la prostituzione non è una scelta, ma assolutamente qualcosa di imposto a cui difficilmente si riesce a sottrarsi. E proprio l'esempio di queste due donne rappresenta manifestatamente quello che in realtà è una schiavitù senza fine. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, proprio su questa testata che è il Corriere della Sera, l'Italia che scivola nelle classifiche. Infatti passi per il centro di Londra, dove il PIL procapite sei volte quello dell'Unione Europea, passi per Hamburgo, Brembo o Bruxelles, ma che tra le aree più ricche d'Europa ci sia pure Bratislava, ma non Milano, sicuramente fa pensare. E così il cedimento del Sud. L'allarme più grave però è che quando l'Eurostat ha diffuso i dati, l'Eurostat ha diffuso i dati, al governo erano così distratti dalle liti che forse non se ne sono neanche accorti. E ancora vediamo sempre sul reddito di cittadinanza, quattro consigli che vengono forniti da questo quotidiano. Il reddito di cittadinanza sta muovendo i primi passi e gli italiani ne stanno prendendo le misure, code o meno. È interessante e utile monitorare come cambia la relazione tra i cittadini e questo nuovo strumento di welfare, nel momento in cui esce dal terreno della propaganda politica e atterra nella vita di tutti i giorni. Ed ancora vediamo, visto che proprio in questi giorni si è tanto parlato di vaccini, ci fa anche notare, ci fa veramente riflettere questo titolo, morire di morbillo per 13 euro a vaccino Madagascar, mille vittime da ottobre. Infatti sono queste le vittime di questa malattia e il tragico bilancio dei morti di morbillo in Madagascar. Per la maggior parte bambini, per molte famiglie il costo del vaccino è 13 euro, pensate un po', è troppo alto. Il governo del Madagascar promette un piano di vaccinazioni gratuite per il 2019 e ovviamente in Italia si discute ancora fermamente e fortemente sul fare o meno il vaccino ai propri figli, specialmente adesso che comunque ci sono malattie che sono state debellate e sicuramente ovvera è stata proprio quella dei vaccini. Non tutto ovviamente è sempre così lineare, però la realtà è che comunque tante malattie sono state sconfitte. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, il fatto quotidiano fine dei domiciliari per i genitori di Renzi nella parte alta della pagina, ma le accuse e la misura cautelare restano 8 mesi di interdizione imprenditoriale per non indurli in tentazione. E anche sul fatto quotidiano vediamo che l'apertura è su TAV, ecco la banda del buco, aziende fallite e tangentari. Chi ha preso gli appalti da 1.400.000 euro e chi aspetta adesso i nuovi? Conte tratta per rinviare i bandi, Movimento 5 Stelle, Crisi Aperta e Salvini. Prima fa il bullo, poi frena per paura della base. E infatti vediamo ancora le altre notizie, vediamo nella parte centrale della pagina, non sono morandi, si parla di autostrade, accordi per truccare le perizie, su un altro ponte a rischio, bisogna un po' tagliare la relazione, ma ovviamente in questo caso se ne accorgono e la situazione diventa critica e allarmante. Si parla di tre mesi dopo il crollo del ponte di Genova, gli ingegneri brigano sul viadotto Paolillo, sull'A16 Napoli Canosa Neffogiano, che aveva una trave collassata, cavi intrecciati e non file l'inghippo. E questo qua, insomma, ancora una volta si gioca con la vita delle persone, senza considerare che chi comunque sta giocando dietro le quinte, prima o poi da questo ponte ci passerà. E questa è una situazione che sembra davvero paradossale, però l'essere umano non si rende molto spesso conto di quello che sta facendo, perché mi auguro che se così fosse certe azioni non le compierebbe. Ancora vediamo quali sono le altre notizie. In primo piano ci spostiamo in Venezuela, blackout made in USA, Trump vuole tutto il petrolio. E ancora a caso Cucchi, così l'arma ha nascosto la perizia segreta. Ed infine nella parte bassa della pagina, vita da strega, 57 libri in 10 giorni, votanti le fatiche per arrivare a scegliere la dozzina. Una vera e propria fatica, una vera e propria conquista, ma soprattutto tante tante polemiche, proprio in merito ad un premio che è mai internazionale, ma soprattutto che ha tanti punti nascosti. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul quotidiano libero. Il canone in bolletta non basta, lo Stato regala alla RAI centinaia di milioni nostri, la TV pubblica spende di più per i costi esterni che per il personale, così prevede di raddoppiare il disavanzo. Ripialerà il governo, in pratica pagheremo, pensate un po', due volte. Ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina, scendiamo la giustizia spettacolo che libera i genitori di Rezzi e intanto l'unico a tagliare il debito pubblico è stato Mussolini, lo dimezzò nel ventennio. E nella parte bassa della pagina, intanto la sindacarista che parla, è inutile scioperare in nome delle donne, Anna Maria Furlà, il segretario della CISL, meglio pensare a risolvere altri problemi. Insomma, ieri la giornata è stata complicata da tanti scioperi, tutto in nome di parità di genere, di diritti delle donne, ma in realtà è stata un'odissea senza fine per chi comunque, donna o uomo che fosse, doveva andare a lavorare e si è trovato nella difficoltà di non poter utilizzare i mezzi pubblici. Insomma, un favore fatto alle donne? Non credo. E come dice anche la Camusso, la Furnan, questa è la realtà, ossia la protesta va bene, però ci vogliono azioni concrete e non solamente bandiere sventolate e soprattutto non blocchi di questo tipo. Ancora continuiamo a vedere le testate nazionali, il tempo, il governo va a finire sotto il treno, Lega e 5 Stelle ha un passo dalla rottura sulla taba, i grillini, la crisi è già aperta, trattativa a oltranza per evitare il crack, ma lunedì scade il termine per pubblicare i bandi. Ed ancora si parla di Xilella, il vero e proprio caos dalla politica a zero soluzioni, la protesta in piazza di Coldiretti. Si è risolta infatti la polemica riguardante il latte in Sardegna, siamo arrivati a 74 centesimi dati per il latte o vino e adesso si ripresenta un nuovo problema, anzi questo problema non è nuovo ma è profondamente antico, però la situazione si presenta ancora in risolto, stiamo parlando degli alberi di oliva. Questa è una situazione che dovrebbe essere appianata, ma soprattutto dare una soluzione a tanti che adesso non possono andare avanti. Ancora vediamo il giornale di Maio Minaccia Salvini sull'alta velocità, i 5 Stelle ricattano il leghista sul caso 18, Buffagni, la crisi aperta, il guru grillino Notav sponsorizza l'opera in Svizzera. Matteo è ora di scegliere o con gli italiani o con i truffatori. Ed ancora nella parte più bassa della pagina, la festa insulsa, otto mazzo di scioperi e cortei, la farsa che boicotta le donne. E ancora vediamo la rincorsa azzurra, i sondaggi che sono stati fatti proprio da questo quotidiano, Forza Italia sale oltre il 12%, e ancora parla Mara Carfagna, il governo Dico Giù nei mani dalla famiglia. Ancora preoccupazioni per questo. E nella parte centrale della pagina, Trump ci chiede di pagare per i soldati USA in Italia, nelle basi sono 12 mila. E ancora il film, il cinema, il flop di Veltroni, incassati solo 83 euro a sala, pochi spettatori per c'è tempo. E infine nella parte bassa, ancora una notizia di cronaca, ancora una scomparsa, morto Nichi il Bello, il re della dolce vita, pende il playboy romano che sposò la Sandrelli. E ancora ci spostiamo su un'altra testata nazionale, andiamo a vedere la Repubblica, che cosa ci racconta in questa giornata, separati in TAV, governo ad alta velocità verso la crisi, ma Salvini intanto frena, Di Maio c'è un patto, la Lega non può decidere da sola. E intanto Conte tenta l'ultima mediazione, accordo entro domani, assista ai 5 Stelle, una clausola di revoca nei bandi europei. Ed ancora vediamo nell'editoriale la politica è sacro gral del contratto. E nella parte destra della pagina, pubblici litigi e private convenienze, mentre Mattarella, nella giornata dell'8 marzo, si rende conto dell'infame schiavitù. Intanto Bacchitalia, ore vede nero, rischi veri per l'economia. E nella parte centrale della pagina, l'intervista a Zaia, una partita da vincere nell'interesse del Nord, oppure a questo punto salta l'alleanza. Ed infine nella parte più bassa della pagina, il giro d'Italia di Angela dice così, sono rimasto bambino. Ovviamente si parla di Piero Angela e del suo modo di girare l'Italia e farla vedere a tutti. Un modo, come dice lui, proprio per rimanere bambino. Insomma, quando si fa ciò che piace, lo si fa col cuore, ecco che diventa un piacere per tutti. Allora io vi lascio a qualche momento di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo. Allora io vi lascio a qualche momento di pubblicità, e poi vi lascio a qualche momento di pubblicità, e poi vi lascio a qualche momento di pubblicità. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano sulle testate nazionali, andiamo ad esaminare che cosa racconta in questa mattina il quotidiano Il Mattino, e vediamo nella parte alta della pagina l'ultima mediazione di Conte. TAV, il Premier cerca l'intesa per evitare la crisi di governo, ma i bandi andranno avanti. Di Maio duro con Salvini. Serietà non decide da solo. L'alleato frena, troveremo l'accordo, e infatti per scongiurare la crisi di governo dovuto al disaccordo sulla TAV, è il Presidente Conte a lavorare ad una mediazione, ma senza fermare i bandi. Scadenza ormai vicina. Il Vice Premier Di Maio attacca il leader reghista Salvini. Non decide uno solo. Il Movimento 5 Stelle agita il rischio della fine del governo, ma il segretario reghista Salvini è a rallentare. Nessuna rottura o nostalgia, dice, del passato. Ed ancora si parla di autonomia. Il patto a Napoli, le regioni del sud unite, contro quello che lo spacca Italia. Infatti c'è e non c'è. Il fronte comune delle regioni del sud stenta, ma il dialogo è ormai avviato sotto la pressione del regionalismo differenziato. Siamo a un passo dal disastro nazionale, a dirlo è il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. E ancora vediamo qual è lo scenario per quanto riguarda sempre la politica, quello che divide, ma nel contempo unisce il PD e il Movimento 5 Stelle. A quanto pare c'è qualcosa che li rende molto, molto avvicini. E ancora vediamo l'analisi che viene fatta di questo rapporto intricato del governo, quel filo rosso sempre più sottile tra Matteo e Luigi, un cuore rosso di Maio teneramente sulle punte, Salvini con le mani intorno al collo che lo bacia fraterno, il murale scomparso in via del collegio Capranica lo scorso luglio, è stato in seguito rimosso, ma il governo no. Quello anzi vereggiava sull'onda di tutti. Largo consenso dopo che Lega e Movimento 5 Stelle avevano faticosamente raggiunto l'accordo sancito in un contratto per il governo del cambiamento lungo ben 57 pagine. E ancora vediamo l'8 marzo diverso, la schiava del sesso che ha commosso Mattarella e tutti noi. E nella parte centrale della pagina invece cambiamo proprio argomento, le mie notti a spiare Maradona tra hotel donne e partite in strada. dai segreti dell'investigatore Restino Mi incaricò Moggi. E ancora al CAF di Casa Pesenna, vediamo che cosa accade, si parla di reddito di cittadinanza, chi è che si trova a fare proprio la fila? La vivandiera di Zagaria proprio in coda. Sotto la sua villetta c'era il bunker del super boss condannata con il marito a scontato 4 anni. Dopo andremo a esaminare questa notizia. Ancora manovra agli effetti, pensioni d'aprile, scatta il taglio sulle rivalutazioni. Ed infine nella parte bassa della pagina continuano le aggressioni. Io, medico del 118 a Napoli, tra botte e insulti, adesso ho paura. E' questo che viene raccontato da questo medico, che è la vittima numero 16 nel 2019. Vittima di questa sanità, sia della sanità che dell'atteggiamento delle persone, che comunque non riescono a subentrare in una situazione di calma, proprio quando si tratta della salute. Insomma, ci sono tanti problemi che dovrebbero rendere tutto assolutamente più semplice, ma in realtà accavallano una situazione con l'altra, riducono il personale. E questo crea ostilità proprio tra pazienti e medici. E i medici del 118 adesso hanno sempre più paura. Ma continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo sulla stampa. Anche qui TAV, il governo sbatte sul nuovo europeo. E la paura di una crisi al buio. Intanto Matteo e Luigi, titola proprio così, piacersi è così inutile. E nella parte centrale della pagina, una notizia di cronaca, un allarme senza fine, morti, pensate, da inquinamento, il triste record della pianura padana. Eccola qua, infatti, vediamo un'immagine evocativa che rappresenta proprio la situazione di questo inquinamento che distrugge qualsiasi cosa. E vediamo infatti che nel Veneto, che soffre un capannone su dieci, è anche abbandonato. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo adesso ancora su il manifesto. E vediamo la tempesta femminista. L'8 marzo, non una di meno, riempie 40 piazze d'Italia. E nella parte centrale della pagina, eccoci qua, sempre un titolo suggestivo, suggestivo il baffa dei, si guardano, ovviamente non si guardano, ma guardano in direzioni opposte, almeno secondo questo ritratto che ne fa il manifesto. I ministri reghisti non firmeranno mai il blocco dei cantieri, la tab si farà, Salvini sprezzante, alza il tiro e provoca all'alleato 5 stelle. Ora nessun vertice, ci vediamo lunedì di maio, replica e attacca. Sono interdetto, la Lega tradisce il contratto e affossa il governo. Conte cerca una via d'uscita, intanto annuncia a breve, saprete la mia determinazione. Ed intanto vediamo nella parte bassa della pagina, maschere della crisi, una generazione che non sorrende, al me ne frego. E dal Medio Oriente, la guerra infinita della Siria, nei buchi neri. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, adesso ci spostiamo su un quotidiano economico, che è il sole 24 ore, ed andiamo a vedere in che modo manifesta la situazione dell'Italia in questa sua prima pagina. L'industria rimbalza dell'1,7% a gennaio, dopo quattro mesi in calo. Segnali opposti, intanto è un'analisi che viene fatta, nella stanza buia di Draghi. E intanto vediamo anche qui, grandi opere, Salvini sulla tab, nessuna crisi, ma il Movimento 5 Stelle lo attacca, ed intanto c'è un presupposto per il commercio, e stiamo parlando della Via della Seta. Conte annuncia un accordo quadro con la Cina. E intanto a febbraio, negli USA frena la creazione di nuovi posti di lavoro. E intanto vediamo in una fotonotizia, Mailbox cerca soci, i fondi adesso in lizza. E ancora una notizia che proprio di questi giorni, che ha fatto riflettere il riscatto della laurea, esperti a confronto, cambiato anche il limite per l'età, ed ancora vediamo, visco, tempi maturi per varare una nuova riforma fiscale. Ancora tutto in divenire, continuiamo sempre sul tema dell'economia, vediamo Italia oggi, che apre sui condoni, l'Europa vuole i dati, i stati membri devono condividere i nomi dei beneficiari, delle sanatorie passate, ma anche future, limiti per le società, al cumulo di sconti e benefici fiscali. Ed intanto vediamo, marchi, ora è tutelabile anche l'odore, e la riproducibilità in forma grafica non è più necessaria per chiedere la registrazione, cambia così l'onere della prova. Ed ancora la riforma, giudici onorari con ferie retribuite e la pensione. Ed infine, utili cattolica nel 2018, pensate un po', raddoppiati a 107 milioni di euro. E ancora vediamo, le multe fino a 60 mila euro, a chi impedisce i tagli di ulivi infetti. Ancora ci spostiamo su un'altra testata nazionale, andiamo a vedere adesso lo sport, come ci viene raccontato in questa giornata, e ci trasferiamo sul Corriere dello Sport. Salta anche Monchi, Roma il DS lascia, andrà all'Arsenal, al suo posto, promosso Massara. Ranieri firma fino a giugno, non potevo dire no, e Totti è l'uomo giusto. Pure noi non lo dimenticheremo, intanto nella parte centrale della pagina, Harry Kane, sulla serie di Arkane, la Juve 2 batte l'Udinese, con un ragazzo che ha fretta di imporsi. Fraordinaria doppietta, rigore procurato, i numeri d'alta scuola, il millenal di Allegri. Alla prima, da titolare in Serie A, con la maglia bianconera, incanta lo stadion, finisce 4-1, vanno in golla anche Emre Khan, rigore, e Matuidi. Martedì sfida all'Atletico, si ferma Goden, intanto è a rischio. e ancora si parla di Cardi, Gattuso pizzica l'Inter, e nella parte bassa della pagina, MotoGP, tutti contro Marquez. E su questa notizia, terminiamo la prima parte di questa rassegna stampa, tutta dedicata all'informazione, che viene dalle testate nazionali, vi lascio qualche momento di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista a pochi minuti dal centro di Caserta. Tecno Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex San Goben Caserta. Tecno Campus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare le tematiche che arrivano direttamente dalla regione Campania. Partiamo dalla cronaca di Napoli, racket alle pizzerie di via Tribunali, scattati quattro arresti. Infatti i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di quattro persone, ritenute affiliate al clan camorristico dei Sibillo, attivo nel centro storico di Napoli. Nei loro confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito all'estorsione aggravata dal metodo mafioso. Alla notte a pizzeria di via dei Tribunali di Matteo, recentemente bersaglio di colpi d'arma da fuoco. Gli esercenti da due anni erano costretti infatti a versare settimanalmente il pizzo a esponenti del clan Sibillo. La richiesta estorsiva che aumentava in occasione delle principali festività era funzionale oltre che ad imporre la supremazia nel clan sul territorio a sostenere i detenuti affiliati al clan e le loro famiglie. E ancora continuiamo sul tema della cronaca. Vediamo Giuliano Volpe che dice no al quadro di Caravaggio, un danno a Napoli ed anche alla cultura. Sette opere di misericordia del Caravaggio, lo vediamo proprio ritratto in questa immagine. E vediamo infatti, dovrei dire che sono senza parole per il blocco che la burocrazia ministeriale del MIBAC ha decretato contro il trasferimento del dipinto. Sette opere di misericordia del Caravaggio dal Pio Monte al Museo di Capodimonte ma purtroppo tre paroline le ho. piccole oligarchie nefaste. È netto Giuliano Volpe, docente universitario e già presidente della SAMI, la società italiana degli archeologi medievisti, di battaglie analoghe ne ha fatte, dice anche da presidente del Consiglio Superiore del Ministero per i Beni Culturali, ruolo in cui è rimasto fino al 2018, voluto dall'allora ministra Franceschini. Allora come oggi sottolineo una delle sfide è combattere i signorotti. Del no, ovviamente si riferisce proprio al Ministro Bonisoli. Ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo a Pestum, Parco archeologico e Confindustria, Salerno a sostegno infatti del sito archeologico. Il Parco archeologico di Pestum e Confindustria Salerno si uniscono a sostegno della cultura e della storia del sito archeologico. Ma vediamo come. Infatti nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro nella sede di Confindustria Salerno a quale hanno partecipato tra gli altri il presidente di Confindustria Boccia, il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete e il direttore del Parco Gabriel Zutriechel. Alfonso Andrea, consigliere di amministrazione del sito di Pestum. Durante la serata sono state premiate le aziende che finora hanno sostenuto il Parco archeologico di Pestum e che fanno parte del circolo Nettuno. Quando entrano in gioco armonia, equilibrio e bellezza, ha sottolineato il presidente Boccia, entra in gioco l'Italia, la Campania, la nostra provincia, è uno specchio del paese. Il collegamento tra territorio, comunità e imprese è determinante per attrarre turisti, clienti e costruire un'idea di paese che vive un paradosso. La percezione che abbiamo noi italiani del paese è peggiore di come il mondo ha in realtà di noi stessi. Sembra davvero un paradosso, ma questa purtroppo è una realtà. Noi ci piangiamo addosso, mentre fuori all'esterno dell'Italia vedono delle meraviglie che spesso noi trascuriamo. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. La vivandiera del boss Zagaria è in coda per il reddito di cittadinanza. E infatti Giramale Casaresi, uno dei personaggi più celebri della storia recente del clan, si è presentato al patronato per chiedere il reddito di cittadinanza. Tra le persone che hanno sottoscritto il modulo, infatti, c'è l'ultima vivandiera del boss Michele Zagaria, la cui figura è stata resa appunto famosa dalla fiction che ripercorre la cattura del padrino imprendibile protagonista. Alessandro Preziosi quasi si becca un torcicollo pur di rendere realistico il suo boss capa storta. Lei e Rosaria Massa nella serie tv è Bianca Guaccio, ma le sorti della custodia degli ultimi segreti del padrino dei Casalesi devono essersi oltremodo complicate da quando proprio durante le riprese del film la si vedeva dare indicazione ai registi abbigliata di tutto punto trascinandosi a tracolla un enorme Louis Vuitton. Devono aver subito un improvviso tracollo finanziario visto che adesso si rivolgono proprio a questo strumento definito dal governo il mezzo per contrastare appunto la povertà. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Fortuna, parliamo del femminicidio uccisa dal marito, il suo calvario, tanti lividi sul corpo e capelli strappati. E infatti non una goccia di sangue in quella casa ma tanti lividi sul corpo di Fortuna. Lividi che aveva provato a giustificare in famiglia spacciandoli per piccoli traumi domestici, dignità, decoro, silenzio, fino al giorno dell'aggressione in un crescendo di violenza. Ad ascoltare la testimonianza raccolta sul posto lì a pochi passi dall'abitazione in cui si è consumato l'ultimo uxoricidio a Napoli urla e scenate di gelosia infatti erano frequenti. Insomma, non un caso dell'ultimo momento, non una tragica fatalità, non una violenza scoppiata così per motivi improvvisi che hanno potuto suscitare un gesto inconsulto, ma piuttosto una violenza che andava avanti da tempo. Ci spostiamo ora sulla provincia di Caserta, andiamo a vedere i fatti che riguardano proprio la provincia e vediamo una notizia che arriva da Caserta News, rischia di essere investito da due ladri in fuga, lo vediamo proprio nel video. Eccolo qua, lo possiamo vedere. Vediamo proprio l'immagine di quello che è accaduto e intanto vediamo che cosa è successo. Eccoci qua, vediamo proprio l'immagine, le macchine parcheggiate, i due che scappano e questo è il tentativo di fermarli. E vediamo infatti, hanno tentato di investire un uomo che li aveva colti a rubare nelle automobili parcheggiate. La drammatica scena ripresa dalle telecamere nella zona industriale di Marcianise e i due ladri sono giunti a bordo di una vecchia Ford e si sono avvicinati alle vetture parcheggiate e hanno iniziato a forzare le portiere raccogliendo quanto più potevano. Ad un certo punto però qualcuno ha dato l'allarme ci sono i ladri, stanno rubando, un uomo esce da una delle tante aziende presenti in zona e prova a fermarli. I due ladri si rimettono in auto ed accelano tentando di investire l'uomo proprietario di una delle auto colpite che intanto si era messo in strada tentando di fermarli. Poteva rimetterci la vita ma c'è un lato da due ladri in fuga. Commentato desolato il sindaco Antonello Velardi e un altro operaio lì vicino capisce che non ce la fa di intervenire e si blocchiano un batter d'occhio e i due se ne vanno. La Ford sparisce nelle strade dell'area industriale e diventa così difficile rintracciarla. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie di cronaca che arrivano proprio da Caserta News. Condannate le suore violente ecco le richieste del PM per le botte ai bambini. Intanto vediamo le immagini ritratte dalle camere di videosorveglianza. Quattro condanne sono state richieste dal Pubblico Ministero Francesco Persico della Procura di Napoli Nord nei confronti delle suore che gestivano la scuola paritaria Santa Teresa del Bambin Gesù di San Marcellino. Il magistrato ha chiesto quattro anni di pena per la madre superiore a 76 anni di Aquilonia e tre anni a testa per le altre tre suore di origine indiana e filippina. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord Paone ha disposto il rinvio ad aprile per la discussione delle parti civili e del difensore. La vicenda scoppiata a giugno dello scorso anno dopo l'operazione dei carabinieri ha creato un grande scalpore a San Marcellino visto che la scuola paritaria affidata alle educatrici cattoliche era molto conosciuta. Ad incastrarle ci sono numerosi video in cui si vedono chiaramente le aggressioni ai bambini durante l'orario scolastico e in un'occasione addirittura un bambino è finito a terra accanto alla scrivania della suora dopo essere stato colpito. Le indagini sono scaturite dalle denunce presentate ai carabinieri di San Marcellino da parte dei genitori di cinque bambini che all'interno delle mura domestiche avevano manifestato disagio e cambiamenti di umore chiaramente riconducibili a comportamenti subiti presso l'istituto scolastico. La madre superiore tentò anche di comprare il silenzio di una famiglia pensate offrendo di ripagare la retta scolastica sempre peggio questo è quello che purtroppo capita ai bambini. Ancora vediamo altre notizie di cronaca quattro arresti minorenni costretti a prostituirsi smantellata la rete di sfruttatori vediamo infatti quattro cittadini nigeriani tra cui tre donne sono stati arrestati in provincia di Caserta nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catania su una tratta di connazionali che venivano trasferite in Italia per essere avviate alla prostituzione gli arrestati sono accusati a vario titolo di concorso con altri soggetti allo stato non identificati in Nigeria e Libia di tratta di persone reato pluriaggravato dalla trasnazionalità e dall'avere agito in danno di minori esponendo le persone offese ad un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano ci spostiamo a Caserta prima pagina e vediamo ancora una brutta notizia di cronaca stamattina veramente sono tante ragazzino picchiato e scaramentato nella fontana della villa comunale vediamo la gente affollata proprio in questa vicenda dell'incredibile l'episodio di violenza e di bullismo avvenuto nella serata del cuore di Santa Maria Capoavetere all'interno della villa comunale cinque persone hanno infatti malmenato un ragazzino che ha tentato di resistere all'assalto per finire poi per essere scaramentato nella fontana della villa comunale un episodio di violenza che rilancia l'emergenza criminalità nella città del foro soprattutto quella rivolta contro ragazzi minorenni resta ancora da capire cosa abbia spinto i cinque ragazzi ad agire con una tale violenza contro la vittima dell'aggressione ecco questo è il punto principale riuscire a capire che cosa spinge i ragazzi ad agire violentemente contro propri simili ossia ragazzi e cosa fa scattare in questi ragazzi la incapacità di sapersi gestire questo è l'interrogativo che ci poniamo in questo sabato in questo fine settimana e che giriamo anche a voi affinché qualcosa possa cambiare soprattutto intervenendo e aiutando chi si trova in situazioni così difficili e disagiate per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi terminiamo qui ringraziamo come sempre Tecnocampus che come ogni mattina ci consente di stare con voi per fornirvi un'informazione in tempo reale e soprattutto un grazie a voi che siete stati qui presenti e soprattutto l'augurio di uno splendido weekend salve a tutti e buona giornata Grazie a tutti questo programma è stato offerto da Tecnocampus Grazie a tutti